che il Liverpool ha vinto con un solo gol realizzato nel corso del primo tempo al 14esimo minuto in un momento quindi che poteva far pensare che la formazione inglese potesse ottenere magari qualche rete di più il gol è stato segnato da Dolglish, uno dei grandi giocatori del Liverpool, della formazione rossa di Liverpool che ha sfruttato per una volta tanto le sue doti di grande opportunista, la sua grande sensibilità nell'area di rigore raccogliendo come vediamo un pallone vaganto per battere il portiere avversario un'azione che sembrava in pratica conclusa dopo il rimpallo, Dolglish l'ha trasformata in azione vincente riuscendo a realizzare, poi malgrado altri successivi tentativi il Liverpool non è riuscito a trovare altri gol e non è stato nemmeno fortunato in quattro anni